Un colpo di coda dell'inverno inatteso, almeno nelle previsioni, che ha regalato scorci quasi natalizi a poche ore dal sostizio d'estate. Già lo scorso 25 aprile una nevicata fuori stagione aveva sorpreso tutti e dal capoluogo erano arrivate immagini delle celebrazioni della festa della liberazione, impreziosite da una coltre bianca che aveva ricoperto le strade e i partecipanti alla manifestazione alla villa comunale. Ancora più suggestive le immagini che nella giornata di domenica sono rimbalzate da un social network all'altro e che sono state scattate a quasi 2433 metri di altitudine sul livello del mare. Al rifugio Franchetti lo scenario era quello dell'inverno inoltrato, con diversi centimetri di neve che hanno imbiancato rifugio, panchine e cime circostanti. Stessa situazione a Rocca di Cambio, il comune più alto dell'Appennino, dove la neve ha ricoperto tetti e automobili. Uno scenario quasi da favola, ma non per gli operatori del soccorso alpino, che nel weekend hanno lavorato a ritmo serrato. Due interventi in 24 ore per il soccorso alpino sul Gran Sasso, infatti. Il primo sabato pomeriggio, quando un escursionista di Fosinone è stata recuperata dopo essere scivolata lungo un sentiero fangoso nel bosco, nel tragitto tra rifugio di Ruto e Pratititivo. Uno dei tre compagni di escursione, non riuscendosi a collegare telefonicamente con il 118, è sceso fino a Pratititivo e da lì, tramite un albergatore, ha allertato i soccorsi. Il secondo intervento, ieri, domenica, con il recupero di un escursionista di 57 anni di Macerata, colto da ritmia cardiaca a 2700 metri in prossimità proprio del rifugio Franchetti, sul versante terramano del Gran Sasso. L'alarma a soccorso alpino è arrivato dal gestore del rifugio che, accortosi delle evidenti difficoltà in cui si trovava l'uomo, ha provveduto ad allertare le squadre del CNAS, già presenti sul luogo, per un'esercitazione di stazione. A causa delle condizioni meteo incerte e del tempo necessario per un recupero da parte delle squadre di terra, i tecnici del soccorso alpino hanno optato per l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo, recuperato dal tecnico dell'elisoccorso di Teramo e da sanitario a bordo dell'elicottero del 118, è stato trasportato a Campo Imperatore per ulteriori accertamenti.